. 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 ola 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 eh, togli l'eco ola ola, vai cagli che sembra un cazzo buongiorno, come stai? buongiorno, è il signor Poredo? tutto ok, tutto ok costa apposta, Zulè, ogni tanto la fia la polluccia normale guardate se che l'annormiceo che l'arduagite se tengono la sposa che ha fatto la sposa, Zulè? positivo complimenti, compa, lo sei un fondatore eh, Roger, io di femmine c'è non tante bravo, Zulè, io venga la capoletta, che c'è non lo venga facendo ogni tanto andiamo bene andiamo bene fammi capire, dove stai ora? ecco a Balla Porta Romana, chiede eh, sto a Porta Romana e dove si è diretto oggi? eh, verso Gambli ah, qua vicino eh, qua vicino ecco, il Comune di Tere me sta a fare la prezza e in mezzo alla strada e sta a mettere la paratella d'asfalto e lo so lo comune di terra mi sta a fare solo una frega di casino un casino vabbè ecco lo devi andare eh perchè a piazza caribaldi no eh eh lascia aperto che ci pensa a fare piazza caribaldi che è lo scandalo ci sta sta casa puntellata e poi lo portano qua per cannaietti con terra non è che c'è casino a terra ma ma ora fanno parcheggiare le piani e poi ci mettono i puttani qua a piazza grande e poi c'è il master voi che c'è rimasto che a piazza grande ci mette le puttani tanto già ci stanno un po' te lo richiedo coleghe ecchi qua ci sta fermato in mezza strada ci sta a posto dai una botte vedi come si muove ma ci sta a caricare la posto l'alziare come vuoi fare la maestà ma voi se non hanno capito che la mattina quando passi i camion si devono scansare eh come vuoi fare il cacamba tutto qui e l'azzurri va bene quando lavorate voi la mattina per il cacolo non scansare si palettini è già stato davanti si la signora nera di colore lì che parla da sole si ma mi stavo a fare un ragionamento da sole aaaaa certo comunque a terra ma guarda la città è solo ma è più mese che la persona normale si ma che fanno sapere piazza caribaldi è diventato un ufficio dei romeni e degli albanesi si piazza caribaldi è diventato un ufficio dei romeni e degli albanesi appaga piazza e piazza eh tutte le giorni dalla mattina alla sera però quando passa la polizia vanno scappendo i miei decenni che io ho detto tra i capitali dall'estero e come non gli dicono niente l'azienda con vari papi la piazza pulita questo è un paradiso non è qui che hai fila di pubblica dominicana questo guarda che teatro è che lo vanno a bovino teatro eh 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 viene a bovino teatro piazza caribaldi è uno scandalo questo guarda che è andato a parcheggiare che è andato a parcheggiare che è andato a parcheggiare che è andato a piacce da buttare guarda dai una botta te lo so detto e no e no fagli senti la tromba dai una sdombazzata per forza ci sta la polizia sa dai una botta stanno via le bovino con lo camion grazie a te voi saranno tutta bovinesci sta storia non c'è basticchio ve lo farete tempo si ma ecco deve usare un elemento ti preoccupi c'è anche i prolifonti c'è nuova c'è nuova si si è diventata una banda di matti t'era abita se ci sta lo sole mezza il piuere c'è ma scusa se ci sta lo sole piove questo sì che è strano andiamo bene da peggio in meglio vai mo è la mia banda su del rock si fa la curva eh ecco è tutta la curva ma che lo sace che la donna li posti necchiate i carretti a te per spire dalla posta porco di me andiamo bene ma per tutti i cilacci vai più mica la cammina aspetta per fare cazzo la consuma proprio la benzina sì sì almeno non fanno una cazzina quando cammino attento che stai ho previsto che arriva a marzo sarà il più pazzo dopo campi dove devi andare non mi dico che stamattina devi andare solo a campi no fammi capire dove ti trovi ora con un camion su quale mondo e su quale curve ti trovi fammi capire qualcosa stai su quale ruote dove ti trovi sulla strada di campi fammi capire quando sei rimasto per arrivare a campi fammi capire ciao 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 Sì, ma allora la nostra che ha messo qui per un funzione, c'è 3-4 milioni di cavalli, c'è allora. E' una cosa che si tolte, ci vuole attaccare a toglila, alla toglia. Forza una cosa, non vado, 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 non vado. Eh, ma quale c'è pesante? C'è caldo. Non vado, a caso è delle, erolo, non vado, non vado, non vado. Non vado, non vado. E' contento lui, contenti tutti. E' contento, e' contento Luca, che è giocato a borsa. E' vero qua, io vammaggia, no, qua dov'embra chi se deve fermo. Un furgo è un tuo spazio di neve, e gli steve 80, 85. Ma signora, il Mars è bella tranquillo, sciva, bella rilassati, sottonate. E' la rete, come mo', dite, qui sta la macchina di Carpiniera, come mo', ci sta la macchina di Borghese, la rete alla Smat. Quella mi ha visto, che sottonate, mi ha visto pure che non potete allargare. Mi ha passato a fianco, mi ha passato a fianco, mi ha passato a fianco, mi ha passato piano, piano. E' detto capo, io vai piano, e' quella che non va dalla precedenza.